L'ospedale di Popoli resta a secco di fondi PNRR, maltrattato dal governo regionale nel piano interventi, un progetto che prevede investimenti per 213 milioni di euro, cose ripartiti, circa 59 milioni per le case di comunità, 26 milioni per gli ospedali di comunità, circa 4 milioni per i centri operativi territoriali, altri 31 milioni sono stati stanziati per l'acquisto di grandi apparecchiature, 54 milioni per l'adeguamento sismico delle strutture, 38 milioni per la digitalizzazione. Per quanto riguarda l'ASL di Pescara sono previsti tre ospedali di comunità, tre centri operativi territoriali, sei case di comunità. Come al solito il nostro ospedale resta all'asciutto, nessun politico locale ne parla, sia di maggioranza che di opposizione, afferma Enzo Sabatini, sindacalista SPCGL ex dipendente ospedaliero. Vogliamo ringraziare di questo il governo regionale, l'ASL di Pescara, i nostri politici locali e regionali che su questa questione hanno fatto scendere un silenzio assordante.